Hola Flamingo, ciao Finicottoli e bentornati in questo nuovo video qua chi è Charlotte M e oggi passeremo bene 24 ore dentro a questa casetta completamente rosa da cima a fondo e ragazzi è veramente gigante, ci sono anche delle stanze segrete qui abbiamo la zona beauty dove appunto possiamo truccarci e anche con questi panarelli che si illuminano al buio qua ci sono anche delle finestre dove possiamo appunto vedere fuori wow che bello i finicotteri poi qui abbiamo questo magico albero di Natale che è tutto quanto addobbato con cose che appunto vedrete dopo dove le ho prese qui ragazzi guardate cosa c'è wow c'è anche questo cotton candy wow poi qua c'è questa tazza dove appunto abbiamo vari tipi di cioccolata calda già sento l'odore quanto è buona poi qui c'è appunto la zona cucina dove realizzeremo un sacco di dolci anzi realizzerà perché tra poco arriverà una persona segreta non vi spoilerò niente è nella stanza segreta che carino ragazzi c'è qualcuno che mi sta seguendo da prima città è Tommaso mi hai fatto prendere un infatto ma sei scemo tutto bene ma come? ci ho fatto un fuori così con nulla ma sei fuori? sì mi stavo seguendo me lo sono accorta che fai? sto prendendo le palline per il mio albero rosa oggi faccio 24 ore in una casetta rosa ti ricordi che avevo detto che mi sarei unita a te giusto? però non hai la maglietta rosa quindi non ti puoi unire mi dispiace vabbè la vado a prendere da qualche parte qua ci vediamo a casa tua va bene? ciao non ti ho detto ok si è auto invitato venite con me a vedere chi è che c'è nella stanza segreta entriamo da questo muro che in realtà è una porta segreta Tommaso dove vai a stare qua ragazzi? Tommaso dove sei? che c'è? ciao cosa ti fai lì scusa? ragazzi in bagno sì stavo facendo i miei bisogni in bagno con lo scuro lavandini sì vuoi? tieni grazie hai intenzione di uscire? sì sì è questo ciao a tutti ciao ciao vabbè che presenti Tommaso Tommaso ciao visto che ti sei tanto ambientato fallo tu fai vedere tu il bagno ok vabbè allora qui abbiamo una crema per le mani naturalmente rosa e poi abbiamo il bagno che è tuo precisiamo di tutti con il water che tra l'altro hai lasciato aperto ops succede e ancora una domanda ma lo scuro lavandini? eh si può usare anche per tapparti la bocca? ma putz almeno Tommaso lo voglio stare zitto ragazzi certo applauso applauso bravo Charlotte wuhu ok ho da farti fare un gioco perché abbiamo preparato questi da fare in videochiamata ok ma tu hai deciso di presentarti quindi lo facciamo ora va bene vai io giro e tu speschi la domanda che viene rispondi sei fidanzato con Eva sei fidanzato con Eva Tommaso ehm può dar sì? no risposta concreta sì no sì no 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 macchina della verità dici tu cosa è vero ok metti due dita Tommaso è davvero fidanzato con Eva? no falso Tommaso non sei davvero fidanzato con Eva che cos'è questa? fermati stai ferma dici un'altra cosa falsa e io continuo ok va bene non mentirò più va bene va bene ok un'altra domanda giriamo pesca ok questa qua oh mi hai mai mentito? mi hai mai mentito Tommaso? vediamo sentiamo diciamo la verità sì può darsi sì non ci credo forza metti le dita ok subito Tommaso mi hai mai mentito? sì non ci posso credere io non ci posso è falso però quindi vuol dire che non ti ho mai mentito però non l'hai fatto quindi non è cadere bove non è vero sì non è vero sì dopo quello lo uso anche io contro di te no no sì adesso? ti metti a sedere ok Ok. Non ti guardare allo specchio perché se no mi si rompe la conta sei brutto. Come sei simpatica. Invece di truccarlo però ti farò la piastra perché siamo curiosi di vedere Tommaso lisso. No. Non piangere. No dai, non ti tengo. Tommaso. Fa un brutto rumore. Ah, mi stai bruciando. Ragazzi, siamo pronti. Ah, di piacere. Oh mio Dio. No, ti puoi guardare allo specchio. Oh Dio ragazzi, che figo. Ok. Non mi bruciare. Ragazzi guardate il capolavoro. Wow. Com'è? Ragazzi, è o non è più bello di prima? Sei pronto a guardarti allo specchio? No. 3, 2, 1. Ma che hai fatto? Ma sono efficissimi. E non è questo l'obiettivo? No, questo non sono io. Vuoi che te ne faccia un'altra po'? No, grazie. Allora ti trucco. Tieni un attimo. Non ti piace questa? Tieni un attimo. Bravo. Esatto, io scappo. Ciao, è stato un piacere. No, dove vai? No, 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 no. Ah, tu no, tu no. Te lo fai da pipì. Non me la frega. Allora, io ti do 3 secondi. Sì. Uno. Ciao. Due. Aspetta. Due. Aspetta. Ok. Due. Due e mezzo. Due e mezzo. Due e un quarto. 2,8, 2,9, 3, esci, parta, esci, aspetta, 3,2,1, tempo scaduto, non guardare, tempo scaduto, ok, c'è un'arma letale, ok, vai, veloce, andiamo, andiamo, allora, ti trucco, ok, si, siamo calmi, non dovevo venire qua, si, va bene, siccome non ti piacciono i suoi capelli, ora mettiamo un'arma più letale, va bene, vai, questa, così ti rimane anche la piega, Di che materiale è? Seta Seta Questo di Seta Chi me l'ha fatto fare? Io Te, esatto, te Mi sembra ovvio Ok, vai Ho scelto di disegnare il Grinch come nelle mie unghie Ok, vai Su Iniziamo dal verde Se non vengo decente non sei la make-up artist Perché invece se non mi parti della tua relazione con Leonardo? Zumasa, per favore Sentiamola Sì Sennò ti riduco molto brutto Aia, aia Poverino, scusami Ti faccio male? No No, ora no Fatto Ta-da! Tocco di classe completato E il risultato del Grinch Eccolo qua Bello? Sì Ok, allora vieni Facciamo la post screen Corri, corri, corri Vieni, vieni, vieni Ok Ok, allora ragazzi Screen tra 3, 2, 1 Ok, è fatto Ok, è fatto Charlotte 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 Ti prego rispondi Charlotte Svegliati Svegliati Ho solo fame Ma sei... Ma bene Bastava di dire ho fame Non fare tutta questa cena Non fare qualcosa Su Sì, va bene Ok Ok Cosa vuoi? Ah, io ho saputo Svegliati Mi sento male Tutto fa Mi posso voler Sì, sì, va bene Sì, ora faccio qualcosa Loretta Sì, ma non sai fare niente Loretta Sì, ma non sai fare niente Loretta Ah, non è Loretta Ok Sono Pronti per il capolavoro Leonardo realizzerà Tutto qua Chi? Tommaso Ah, scusa So che pensi sempre a lui Sì, lo so Però io mi chiamo Tommaso, ok? E noi siamo grandi amici Sì, ok Pensa pure a lui Ehm, mettiamo questo Qua dentro c'è fegola e farina Poi mettiamo lo yogurt Alla fragola Perché ti so c'è la fragola Ma che stai facendo, Tommi? Una torta Ma non è così che si fa Sì, è così che si fa Solo che deve ancora venire Dai, non vuole uova Abbu Natale Tieni Sì Sì Sarebbe veramente divertente Spaccartelo in faccia Macchina Tieni Non voglio me Io no Giriamo Perché tanto preferisci Leonardo, no? Giriamo Continuiamo a girare Ok E tu preferisci Eva, ovviamente E uno, due, tre Ecco qua Il risultato Ragazzi Sembro veramente squisita Io non me l'aspettavo così buona Complimenti È bellissimo Allora, decoriamola È arrivato il momento del topping Io direi questi qua Che sono Oh my gosh Ok, devi mettere assolutamente il fenicottero al cuore Il fenicottero, ok, allora Ok 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 È arrivato il magico momento di mangiarla ragazzi Ok Tagli un pezzettino Uno, tre Due Uno È buonissimo Si è già fatto buio ragazzi Quindi Ora andiamo a dormire Giusto? Come si fa adesso e c'è solo un letto? Mia È tutto mia Grazie per il letto Allora io prendo questo Camera man Anche tu voglia dormire? La torta la finiamo di mangiare domani mattina, va bene? Va bene Buonanotte Buonanotte Ciao camera man Tommaso Io sto per andare a dormire Io sto già dormendo Ah, proprio già morto lui nel sonno, vabbè Allora ragazzi Io lascio la telecamera qui Così domani mattina quando mi sveglio mi vedete E vado a dormire anch'io Buonanotte 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 Tommaso smettila di lanciare le cose Voglio dormire ti ho detto Cosa? Smettila di lanciare le cose Perché mi lanci la carta? Non ci ho lanciato niente Mi hai lanciato un foglio No, non ci ho lanciato niente Tommaso si Non sono stato io Ragazzi c'è del sushi Dove l'ho preso il sushi io? Non sono stato io Ragazzi c'è delle bacchette E il sushi E il sushi e un foglio Tommaso 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 Come hai fatto a toccarvi i piedi da là? Non ci ho toccato i piedi Ma mi stai prendendo in giro Mi hai toccato i piedi ora Ero qua io Scusate Ero qua Come ho fatto? Tommaso c'è qualcuno che mi ha toccato i piedi? Sì vabbè Sognatelo magari Che stai dicendo? Non è che Che c'è? Non c'è niente Tommaso 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 Ragazzi ragazzi Oh mio Dio Oh mio Dio Stai arrivando Tommaso Tommaso Oddio Tommaso 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 Ok C'è chi No No C'è chi No No Adesso non si può aprire più Ragazzi dovete sapere che qua non c'è la maniglia Perché devono ancora aprire i lavori Quindi non si aprirà più questa porta Perché non arriverà qualcuno da aprirci Cosa facciamo? No Oddio Cosa cavolo facciamo? Aspettiamo il cameraman Senti Facciamo una cosa Dormiamo Tanto lui in teoria non può aprire da fuori Non lo so Sì che può aprire da fuori Ok Può entrare in qualsiasi momento Dormiamo Se succede qualcosa ci prendiamo un'arma Attanto Ok tieniti qualcosa Sì E domani mattina viene il cameraman E ci sveglia E ci apre la porta Ok Va bene Ok ragazzi Noi ci vediamo presto Speriamo che questa notte vada bene Andiamo a dormire Tommaso Ciao Ciao No No